Allora, partiamo per il lungo del tappetino, portiamo i talloni all'interno, le punte dei piedi all'interno, cerchiamo di allargare le gambe, nella misura in cui possiamo stare comodi con le ginocchia pilate. Allora, rilassiamo le braccia, il mento parallelo al terreno, iniziamo a cercare quelle che sono delle rotazioni, Allora, mentre il ginocchio cerca di andare all'indietro, la coscia ruota in avanti, quindi l'interno della coscia spinge in avanti, per farlo dobbiamo un pochino spostare la coda in avanti, inizio a sentire quella particolare rotazione, cerco di andare a percepirla, a gestirla, quindi ad attivarla un pochino di più, e inizio a schiacciare i piedi a terra, l'arco del piede deve essere attivo, quindi bene, i talloni, le dita dei piedi, Andrassiamo le braccia, le spalle, la lingua sul palato, chiudiamo un pochino gli occhi, manteniamo l'equilibrio, Inspiriamo, solleviamo le braccia come se raccogliessimo qualcosa e spingiamolo su verso l'alto, Inspiriamo, come se spingessimo qualcosa in giù verso il basso, Inspiro su, Espiro Inspiro su Espiro Inspirando su le braccia e allungo le gambe, espirando rotiamo sulla sinistra, Inspiro Piego il ginocchio sinistro Espiro Mani a terra Inspirando Subito sulla gamba sinistra Espirando Piede sinistro tra le mani Inspiro Vengo su Espiro Allungo la gamba e torno al centro Talloni all'interno, punte del piede all'esterno, Espiro Come se spingessi qualcosa in giù verso il basso, Inspiro su Espiro Inspirando su le braccia e allungo le gambe, Espirando ruoto sulla destra, Inspiro Piego il ginocchio destro, Espiro Mani a terra, Inspiro Inspiro subito sulla gamba destra, Espiro Piede destro tra le mani, Inspiro Su Espiro Torno al centro, Ginocchia piegate, Talloni all'interno, Punte del piede all'esterno, Espiro Giù le braccia, Inspiro Su Espiro Inspiro Su le braccia, Espiro Allungo bene le gambe, Mi fermo qui bene, L'ombelico all'interno, Espirando coda bene in avanti, Mi inclino sulla destra, Inspiro Torno Espiro Mi inclino sulla sinistra, Inspiro Torno Espiro Ruoto sul lato sinistro, Inspiro Leggera inclinazione all'indietro, Petto aperto, Espirando piego il ginocchio e scendo mani a terra, Inspiro sulla gamba sinistra, Espiro Piede sinistro tra le mani, Inspiro Su Espiro Torno al centro, Talloni all'interno, Punte del piede all'esterno, Espiro Giù le braccia, Inspiro Su Espiro Inspiro Sulle braccia, Espiro Allungo le gambe, Coda in avanti, Inspiro Espiro Sulla destra, Inspiro Torno Espiro Sulla sinistra, Inspiro Torno Espiro Ruoto Sulla destra, Inspiro Mi inclino all'indietro, Espirando piego il ginocchio, Mani a terra, Inspiro Sulla gamba destra, Espiro Chiado destro tra le mani, Inspiro Su Espiro Torno al centro, Ginocchia piegate, Inspiro Espiro Inspiro Espiro Inspiro Sulle braccia, Allungo le gambe, Espiro Mi inclino sulla destra, Inspiro Torno Espiro Sulla sinistra, Inspiro Torno Espiro Ruoto Sul lato sinistro, Inspiro Apro All'indietro, Espiro Piego il ginocchio e scendolo, Inspiro Sulla gamba sinistra, Espiro Piede sinistro tra le mani, Inspiro Su Espiro Torno al centro, Inspiro Espiro Espiro In And Inspiro Inspiro sulle braccia, Allungo le gambe, Espiro Mi inclino sulla destra, Sempre un pochino di più, Inspiro Torno Espiro Espiro All'interno le punte dei piedi all'esterno, Ginocchia che spingono all'indietro, Rotazione della coscia, Corre in avanti, Cerco di respirare, Rilasso le braccia, Posizione di partenza, Attivo bene la spinta sotto i piedi, Inspiro sulle braccia, Espiro In giù Verso il basso, Inspiro Su Espiro Inspiro Allungo le gambe, Sulle braccia, Espiro Ruoto Sulla sinistra, Inspiro Apro All'indietro, Espiro Piego il ginocchio E scendo, Inspiro Sulla gamba sinistra, Espiro Piede sinistro tra le mani, Inspiro Su Espiro Espiro Torno Inspiro Inspiro Espiro Espiro Inspiro Su Espiro 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 Piede destro, Piede destro tra le mani, Quindi fermo, Quindi fermo, Espirando gamba destra verso sinistra, Punto il piede a terra, Inspiro, Spingo sotto la mano destra, Su il braccio sinistro, Per ora, Per ora, Per ora, Tengo entrambi i piedi a terra, La coda in avanti, Non questo, Bene in avanti, Respiro, Guardo la mano destra, Se me la sento, Mantengo l'equilibrio, Posso provare a guardare su verso l'alto, Inspirando braccio in avanti, Rotazione nella spalla, Mano a terra, Inspiro sulla gamba sinistra, Espiro, Piede sinistro tra le mani, Inspiro su, Espiro, Torno al centro, Inspiro, Espiro, Inspiro, Espiro, Inspiro sulle braccia a lungo, Espiro, Ruoso sulla destra, Inspiro, Espiro, Piego il ginocchio, Mani a terra, Inspiro sulla gamba destra, Espirando gamba destra, Verso sinistra e punto il piede, Guardo la mano, Sinistra su il braccio destro, Mantengo i piedi puntati a terra, Per ora, Respiro, Mi raccomando la coda in avanti, Non questo, Bene, Le gambe dritte, La coda in avanti, Spingo sotto il braccio sinistro, Bene in avanti, Come se dovessi fare una bracciata in mare, Mani a terra, Inspiro sulla gamba destra, Espiro, Piede destro tra le mani, Inspiro su, Espiro, Torno al centro, Inspiro, Espiro, Inspiro su, Espiro, Inspiro su le braccia, Allungo le gambe, Espiro, Ruoto sulla sinistra, Inspiro indietro, Espiro, Piego il ginocchio, Mani a terra, Inspiro sulla gamba sinistra, Espiro, Gamba sinistra verso destra, Punto il piede, Inspiro, Spingo sotto la mano destra, Sul braccio sinistro, E se me la sento, Penso bene, Dov'è la gamba destra? Ginocchio destro verso il petto, Respiro, Mantengo, Respiro, Coda in avanti e lentamente riporto il piede destro a terra, La bracciata in avanti sulla gamba sinistra, Espiro, Piede sinistro tra le mani, Inspiro su, Espiro, Torno al centro, Inspiro, Espiro, Inspiro su, Espiro, Inspiro, Allungo le gambe su, Espiro, Ruoto sulla destra, Inspiro all'indietro, Espiro, Piego il ginocchio, Mani a terra, Inspiro sulla gamba destra, Espiro, Gamba destra verso sinistra, Inspiro, Inspiro su il braccio destro, Espiro, Ginocchio sinistro al petto, Solo se ne la sento, Respiro, Coda in avanti, Guardo su, Espirate, Non bloccate il respiro, Bracciata in avanti, Mani a terra, Piede a terra, Sulla gamba destra, Espiro, Piede destro tra le mani, Inspiro su, Espiro al centro, Coda in avanti, Inspiro, Espiro, Inspiro, Ispirando lungo le gambe, E lungo le braccia, Mi fermo, Ispirando, Mi inclino sulla destra, Ispirando, Torno, Ispirando, Mi inclino sulla sinistra, Ispirando, Ispirando, Piego le ginocchia, Appoggio i dorsi delle mani sulle cosce, Sempre la coda in avanti, Le ginocchia di indietro, Rotazione nella coscia, E respiro, Bene, I piedi che spingono a terra, Inspiro su le braccia, Espiro giù, Inspiro, Allungo le gambe, Allungo le braccia, Espiro, Ruoto sulla sinistra, Inspiro, Atto, Espiro, Piego il ginocchio, Mani a terra, Inspiro, Espiro, Gamba, Sinistra verso destra, Inspirando subito il ginocchio al petto e su il braccio, Espiro, Se me la sento allungo la gamba destra e vado a prender con la mano sinistra e il piede destro, Espiro, Apro bene il petto, Guardo su, Cerco di spingere bene sotto la mano destra, Lentamente piego appunto sulla gamba, Espiro, Piede bene sinistro tra le mani, Inspiro, Espiro, Torno al centro, La coda bene in avanti, Finocchio piegato, Inspiro su, Espiro, Inspiro su, Espiro, Inspirando, Allungo le gambe, Allungo le braccia, Espirando, Ruoto sulla destra, Inspiro, Apro, Espiro, Piego il ginocchio e mano a terra, Inspiro sulla gamba destra, Espiro, Gamba destra verso sinistra, Punto il piede, Inspirando subito su, Se me la sento allungo e prendo, Respiro, Non blocco il respiro, Piego, Piede a terra, Mano a terra, Sulla gamba destra, Espiro, Piede destro tra le mani, Inspiro su, Espiro, Torno al centro, Inspiro su le braccia, Espiro giù, Inspiro, Espiro, Inspirando, Allungo le gambe, Allungo le braccia, Espirando, Mintrino verso destra, Inspiro, Torno, Espiro, Inspiro, Torno, Espirando di nuovo, Piego le ginocchia, E di nuovo, Appoggio i torsi delle mani, Sulle cosce, Lentamente, Senza fretta, Allungo le gambe, Ma questa volta scendo con il petto verso il basso, I talloni, Vanno verso l'esterno, Le punte dei piedi, Verso l'interno, Cerco di scendere con il petto, E di portare le mani a terra, Che riesce i gomiti, Ma non è necessario, Vanno verso l'esterno, E di portare le mani a terra, La coda su il petto, Che vuole scendere, Respiro, Guardo a terra, Rilasso bene, Allungo bene le gambe, Rilasso le spalle, Cerco di renderle completamente morbide, Senza tensioni, Anche sulle gomiti a terra, Anche la nuca morbida, Senza tensioni, E ruoto il piede sinistro verso l'esterno, Cerco di tenere la gamba sinistra dritta e lunga, Per farlo dovrò piegare il ginocchio, Ma poi allungo, Il tallone destro va verso l'esterno, La punta del piede verso l'interno, Sono verso il basso, E ruoto con il busto verso la gamba sinistra, Addoni, Attaccato la coscia sinistra, Gamba sinistra dritta e lunga, Incrocio le braccia, Rilasso, Respiro, Rendo confidata con il movimento, E lentamente ritorno al centro, Sempre puntando il petto verso il basso, Ruoto i piedi, Il piede destro verso l'esterno, Il tallone all'interno, Ruoto verso la gamba destra, E incrocio le braccia sotto la coscia, Rilasso, Gamba destra dritta e lunga, Lentamente di nuovo ritorno al centro, Ruoto i piedi, Vado sulla gamba destra, Questa volta però con la mano destra, Appoggio sul dorso del piede destro, E provo ad allungare bene il braccio destro, Mi spingo via, Ruoto bene aprendo il fianco destro verso l'esterno, E su il braccio destro, Respiro, Tenderò ad andare in avanti, Qui cerco la rotazione all'indietro, Respiro, Lentamente di nuovo scendo in avanti con il petto, Ruoto sulla gamba destra, Mano destra sopra il dorso del piede destro, Fianco sinistro che si apre all'indietro sul braccio, Sinistro, Mettiamolo in movimento, Espiro, Vado in avanti, Ruoto i piedi, Inspiro su, Usate bene i fianchi, Espiro, Vado in avanti, Inspiro su, Espiro, Vado in avanti, Inspiro su, Espiro, Inspiro, Espirando, Ritorno al centro, Inspirando, Talloni all'interno, Punte dei piedi all'esterno, Piego le ginocchia, Srotolo la colonna e vengo su, Inspiro su le braccia, Espiro, Scendo, Inspiro, Espiro, Inspirando, Lungo le gambe e su le braccia, Espiro, Ruoto sulla gamba sinistra, Inspiro, Apro, Espiro, Piego il ginocchio, Mani a terra, Inspiro sulla gamba sinistra, Espiro, Gamba sinistra verso destra, Inspiro, Spingo sotto la mano destra, Ginocchio, Destro al petto, Espiro, La braccia, Espiro, Spiro, Espiro le braccia, Spiro, Spiro su le braccia, Espiro, gamba destra verso sinistra, inspiro, ginocchio al petto e sul braccio. Espiro, se voglio allungo, inspiro, espiro, appoggio il piede, mano a terra, inspiro sulla gamba destra. Espiro, piede destro tra le mani, inspiro, su, espiro, torno al centro, ginocchia piegate, le mani sulle cosci, inspiro, sulle braccia, espiro, inspiro, espiro, inspirando allungo le gambe e allungo le braccia. Espiro, mi inclino sulla destra, inspiro, torno, espiro, mi raccomando, coda in avanti. Espiro, inspiro, ancora, espiro, in e. Inspirando, mi fermo al centro, espirando piego le ginocchia e dorsi delle mani sulle cosce, mentre scendo con il petto verso il basso, i galloni vanno all'esterno, le punte dei piedi all'interno, le mani a terra, inspiro, ruoto bene sulla sinistra, espiro, sistema bene, gamba sinistra dritta e lunga, inspiro, apro, mano sinistra sul dorso del piede sinistro, espiro, torno al centro, inspiro, apro, espiro, torno al centro, inspiro, espiro, ricordate il movimento nel fianco, inspiro, apro, espiro, inspiro, apro, espiro, ancora una volta sulla destra, inspiro, espiro, mi fermo al centro, talloni all'interno, punte del piede all'esterno, piego le ginocchia, srotolo la colonna e vengo su, inspiro, ginocchia piegate sulle braccia, espiro giù, inspiro sulle braccia, quindi fermo, espirando a largo per disegnare l'orizzonte, allontaniamo bene le spalle, manteniamo la postura, cerchiamo di tenere l'ombelico all'interno, ricordate la spinta nelle ginocchia, nei piedi, la rotazione delle cosce, e lentamente portiamo le mani davanti al petto nel segno della preghiera, allontaniamo le mani dal petto e portiamo i gomiti verso l'alto, le spalle in giù verso il basso, inspiro, allungo le gambe, allungo le braccia, espiro, piego le ginocchia e piego le mani in segno della preghiera, le braccia in segno della preghiera, respiro, inspiro su, allungo le gambe, allungo le braccia, espiro, come piego le ginocchia, piego le braccia, mani lontane dal petto, inspiro su, ricordate che la colonna è una linea, espiro, inspiro su, espiro, mantengo la postura di nuovo allargo le braccia per disegnare l'orizzonte, espiro, mantengo, allontano, espirando, talloni verso l'esterno, scendo con il petto e allungo le gambe, mantengo bene la spinta del petto verso il basso, e di nuovo quando inspiro mi apro da un lato, quando espiro torno al centro, rotazione nei piedi, inspiro verso sinistra su, espiro, torno, inspiro verso destra su, espiro, torno, inspiro, espiro, inspiro, espiro, mi fermo al centro e questa volta mi porto per il lungo del tappetino e le ginocchia a terra, subito sulla gamba sinistra e gamba sinistra verso destra, punto il ginocchio a terra e punto i piedi, respiro, tengo la coda leggermente in avanti, spingo sulle mani, sollevo le gambe, allungo entrambe le gambe, inspiro sulla gamba sinistra, espiro, piede sinistro tra le mani, inspiro, vengo su, espiro, torno al centro, talloni all'interno, punte del piede all'esterno, espiro giù, inspiro, espiro, inspiro, allungo le gambe, allungo le braccia, espiro, mi inclino verso destra, inspiro, torno, espiro, mi inclino verso sinistra, inspiro, inspiro, torno, espirando, vuoto i talloni verso l'esterno e scendo verso il basso, inspiro, mi apro, verso sinistra, espiro, torno, inspiro, mi apro, mi apro verso destra, espiro, torno, inspiro, ruotate bene le spalle, espiro, inspiro, espiro, espiro, mi riporto per il lungo del cappettino, le ginocchia a terra, subito sulla gamba destra, espiro, gamba destra, verso sinistra, ginocchia a terra, inspiro, su, allungo le gambe, espiro, sulla gamba destra, inspiro, piede destro tra le mani, espiro, rimango qui, ginocchio sinistro a terra, dorso del piede a terra, inspirando, vengo su verso l'alto, e bene, incrocio le dita delle mani, palmi delle mani bene aperte, su verso l'alto, mantengo, respiro, sistemo la coda leggermente in avanti, l'ombelico all'interno, allungo bene le gambe, sento le spalle, e lentamente provo a piegare i gomiti verso l'esterno, senza portarli in avanti, naturalmente i palmi delle mani li posso appoggiare dietro la nuca, bene forti i gomiti che spingono verso l'esterno, inspiro, spingo sotto il piede destro e vengo su con il ginocchio sinistro, espiro, riporto esattamente il ginocchio sinistro dove era, senza sbatterlo, ritorno a terra, coda in avanti, piede destro dietro, dorso del piede allungato, piede sinistro in avanti, inspiro su, espiro, inspiro su, espiro, inspiro su, espiro, porto il ginocchio sinistro all'indietro, punto bene i piedi, coda bene in avanti, sollevo bene le braccia verso l'alto, senza lasciare l'incrocio delle dita, apro bene il petto in avanti, lo vedico all'interno, lentamente rotazione del braccio destro all'indietro, che va a cercare il pallone destro, respiro, sento il fianco destro schiacciato, e ritorno col braccio destro su verso l'alto, di nuovo incrocio le dita delle mani e su, espirando, braccio sinistro all'indietro, che va a cercare la mano e il pallone, senza guardare, respiro, sento il fianco sinistro schiacciato, e vi ispirando la rotazione della spalla di nuovo su, incrocio nuovamente le braccia, le dita delle mani e le braccia su verso l'alto, piegando i gomiti verso l'esterno, mani dietro la nuca, piede sinistro in avanti, dorso del piede destro a terra, mi siedo sul tallone, allora abbiamo bene la posizione, le anche hanno lavorato, le braccia, il petto è aperto, non ha fretta, pieghiamo il ginocchio sinistro verso l'esterno, allora posso rimanere qui, sono col tallone al perineo, l'arco del piede all'arco del gutio, sono seduta sul piede, allora chi se la sente di rimanere così, l'importante è sentire i fianchi ben direzionati, l'apertura dell'anca, il lavoro di prima qui lo possiamo un po' rilassare, e posso rimanere qui, chi se la sente invece può prendere il piede e portarlo sulla coscia, mi raccomando i fianchi sempre di me, non è questo, ma la colonna rimane sempre dritta, mi raccomando non è questo, ma la colonna rimane sempre dritta, i fianchi sempre ben direzionati, si tenderà a fare questo, cerchiamo di spingerci bene, il ginocchio in teoria è a terra, se non arriva uno scorso, lo tengo sollevato, l'importante è avere l'equilibrio e i fianchi, per chi è rimasto con l'anca a terra, va bene, lo stesso nome, ispirando, prima per chi è rimasto col piede a terra, mi sollevo su verso l'alto, espirando mi siedo, in uguale misura, chi è rimasto col piede sulla coscia, inspiro vengo su, espiro mi siedo, inspiro, espiro, in, e, mi fermo, tengo sempre le mani dove sono i golli, verso l'esterno, e, se ho il piede alla coscia, se ho il piede alla coscia lo sgancio, e allungo la gamba, senza fretta, inspiro vengo su, mi ritroverò con il piede a terra, il ginocchio a terra, inspiro, spingo sotto il piede sinistro, sul ginocchio destro, espiro, di nuovo torno, senza sbatterlo a terra, inspiro su, espiro, ancora una volta, inspiro su, espiro, porto la gamba sinistra di indietro, punto bene i piedi, ispirando su le braccia, coda in avanti, umbilico all'interno, espiro, mano destra che va a cercare il tallone destro, e questa volta, senza guardare indietro, rotazione nella spalla sinistra, mano che va a cercare il tallone, se non ci arrivo, porto le mani alla lombare, cerco di non andare a schiacciare la coda bene in avanti, petto verso l'alto, la direzione verso l'alto, quindi non sprofondo, cerco di andare sempre su, il mento in direzione del petto, respiro, e lentamente sgancio, di nuovo su le braccia, e incrocio, mani alla nuca, piede destro in avanti, dorso del piede sinistro, mi siedo sul tallone, piego la gamba destra, posso rimanere qui, se me la sento, prendo il piede, e lo appoggio sulla coscia, mi raccomando i fiammi, inspiro, vengo su, espiro, mi siedo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, se ho agganciato il piede, lo porto a terra, e allungo la gamba, bene, senza fretta, ora rilancio le mani, lasso le spalle, porto i polpa strelli a terra, facciamo un movimento, un pochino più, utile, quindi mani, bene sotto le spalle, uso i polpa strelli, sollevo i glutei dal piede, e allungo la gamba sotto, e mi risiedo, con le dita massaggio le ginocchia, poi scendo e massaggio un pochino i polpacci, le cabiglie, e lentamente incrocio le gambe, posizione comoda, lento parallelo al terreno, rilasso le spalle, rilasso la bocca, devo percepire bene il petto aperto, le braccia rilassate, le spalle in giù verso il basso, inizio a spingere la nuca verso l'alto, che significa come se ci fosse un filo, la massima sanità del capo, che mi allunga, la cervicale e la nuca verso l'alto, senza portare il mento, il mento rimane sempre parallelo, le spalle inizio a spingere in giù verso il basso, e poi provo a lasciare un po' l'edizio, non importa se torno indietro, non spingo più nulla nel corpo, perché anche se siamo immobili, possiamo attivare le spalle, proviamo a lasciarli andare tutte, la lingua sulla lato, rilasso la mandicola, e mi osservo, stavide e ferma, la mente deve apparire pulita, perché a fermare il lavoro, su parte destra, parte sinistra del corpo, ho una profonda pulizia, della mente in questo momento, deve apparire calma, spaventale, pulita, quindi questo è uno stato mentale, in cui devo approfittare, per inserire qualcosa di inutile, all'interno dell'amore di te, ricordate che se inserisco all'interno della mente, qualcosa di inutile, questa crea spazio, quindi questa sera, dedicate la qualcosa, che vi crea grande piacere, cosa che vi possa essere utile, ispirando, perché ho le mani davanti al petto, lo sembra della pelle, e spiro, una volta, grazie, ciao bimbe, ciao, mi sapete dire, perché mi lampeggia la luce, quale luce, io mi vedo, come se ci avessi, una luce al discoteco, però non ce l'ho, c'è una luce normale, perché mette a fuoco, la tua telecamera, continua a cercare di mettere a fuoco, è meglio che faccia buio, mi oscuro, devi trovare una giusta luce, è meglio se non mi vedo, ciao bimbe ciao grazie ciao